Fiaba di Biancaneve! Ciao a tutti dei più grandi e più piccini, io sono Elisabeth e in questo video vi racconterò una fiaba e questa volta, come avete capito dall'inizio del video, vi racconterò la fiaba di Biancaneve, quindi buon ascolto! C'era una volta una bella principessa di nome Biancaneve, aveva i capelli neri come levano, la bocca rossa come una rosa e la carnagione bianca come la neve. La sua cattiva matrigna, la regina, possedeva un magico specchio a cui rivolgeva sempre la stessa domanda specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? E sempre lo specchio rispondeva, sei tu la più bella del reame? Ma la regina, temendo che un giorno la bellezza della principessa superasse la sua, vestì la piccola di stracci e la costrinse ai lavori più pesanti. Biancaneve però era sempre allegra e cresceva più graziosa che mai, così un giorno lo specchio disse che era lei la più bella del reame. Arrabbiatissima, la regina incaricò allora un cacciatore ad ucciderla, ma l'uomo non ebbe il coraggio, suggerì alla fanciulla di fuggire e non tornare mai più dalla regina. Biancaneve corse via spaventata e si rifugiò nel bosco buio. Laggiù vide una casetta. È permesso? chiese, entrando. Non c'era nessuno. I proprietari erano sette nani del bosco. Dotto, gongolo, pisolo, eolo, brontolo, mammolo e cucciolo. Al loro ritorno rimasero meravigliati nel trovare un'estranea in casa. Sono Biancaneve! Si presentò allora la principessa e raccontò la sua triste storia. I nanetti commossi li invitarono a rimanere a vivere con loro. La fanciulla accettò felice, ma la regina scoprì che Biancaneve era ancora viva. Grazie a un filtro magico si trasformò in una strega e avvelenò una mela. Poi si recò nel bosco e fingendosi una medicante, offrì a Biancaneve la mela stregata. «Coraggio, dalle un morso!» Non appena la fanciulla l'ebbe assaggiata, per incantesimo, cadde in un sonno profondo. Intanto gli animali del bosco erano corsi ad avvertire i nani. «Eccola là!» esclamarono, vedendo la strega che si allontanava veloce. Mentre la inseguirono, scoppiò un terribile temporale. I nani decisero di costruire un'urna di cristallo e oro dove posero Biancaneve. Finché un giorno passò di là un principe che rimase incantato dalla bellezza della giovane. Sceso da cavallo, la baciò. Quel bacio ruppe l'incantesimo e Biancaneve si svegliò. «Che gioia per tutti!» Biancaneve e il principe si sposarono e vissero per sempre felici e contenti. Questa era la storia di Biancaneve. Comunque vi volevo raccontare una cosa un po' della mia infanzia. Quando ero all'asilo facevamo a fine anno degli spettacoli e all'ultimo anno abbiamo fatto lo spettacolo di Biancaneve. Io volevo fare a tutti i costi Biancaneve, ci assomigliavo pure, avevo i capelli corti, però ce li avevo un po' più chiari. E quindi l'ho fatta un'altra mia compagna che però era bionda, se mi ricordo bene era bionda. E quindi a me è toccato fare la strega. Io lì, mamma mia, piangevo, piangevo perché volevo fare Biancaneve. Dicevo «Io voglio fare Biancaneve!» E poi mi fecero provare un vestito da streghetta, cioè più o meno che assomigliava, cioè non era proprio da strega, però che ci assomigliava. E da lì c'era tipo un qualcosa qua di luminoso. Io sono rimasta incantata e quindi ho detto «Vabbè, dai, faccio la strega!» E poi c'era un altro mio compagno che si doveva vestire da mela. Che imbarazzo, raga, che imbarazzo! E nulla, quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate tanti pollici in su. Iscrivetevi al mio canale se ancora non vi siete iscritti. Attivate qui la campanellina per essere sempre aggiornati sui miei video. E iscrivetevi anche sui miei altri social, ovvero TikTok, Instagram e sulla mia pagina Facebook. Troverete tutti i miei nomi qui sotto nel link della descrizione. E ciao, tanti abbracci! Grazie!